Allora, come avete comunicato anche alla stampa, avete effettuato dei test sui vostri dipendenti nelle ultime giornate, come sono andati? Anche questa è un'iniziativa lodevole come tra l'altro ce ne sono state altre anche da quando è iniziata questa crisi. Sì, abbiamo terminato i test sierologici ai quali in Chimera Gold tutti si sono sottoposti volontariamente e diciamo che è stata una misura cautelativa nei confronti dei dipendenti, di noi stessi che appunto attenua un po' lo stress che un po' tutti ci siamo creati in questo momento con le preoccupazioni appunto legate a questo problema. Ecco, il 100% è risultato negativo e qui faccio un po' i complimenti a tutta la squadra proprio perché è stato anche sicuramente il rispetto delle regole in questo periodo complicato della nostra vita a far sì che insomma tutti sono risultati negativi. E so che comunque vi siete impegnati anche in queste giornate anche per poter ripartire quando il governo lo deciderà con questa ipotesi del 4 maggio, come anche da imprenditore come è stato stare fermi? È molto complicato perché ovviamente la salute è sicuramente al primo posto. Noi abbiamo comunque fatto tutta una serie di attività per tutelare l'azienda, i dipendenti e avevamo organizzato appunto già con molta attenzione questa attività di sicurezza, ad esempio già da fine febbraio abbiamo iniziato a misurare la temperatura corporea e ad esempio avevamo costruito già un iter particolare per i fornitori, per i corrieri che quindi non entravano in contaminazione con l'azienda. Quindi abbiamo cercato comunque di tutelare al massimo anche se le regole ancora in quel momento non erano chiare e quindi abbiamo lavorato fino a che è stato possibile farlo, poi quando ovviamente il governo ha decretato il fermo ci siamo fermati immediatamente, anche se avevamo già una parte di sicurezza molto avanzata. In questo periodo abbiamo intensificato la sicurezza, quindi abbiamo inserito anche del plexiglass, abbiamo inserito tutta una serie di ulteriori precauzioni per tutelare maggiormente la sicurezza anche perché sarà una cosa che durerà nel tempo e quindi ci dobbiamo abituare.